Suoni, luci, colori ed aromi sono gli elementi classici di ogni fiera che si rispetti. E Fiera e Festa, la sesta edizione della manifestazione algherese organizzata dalla società Radino, cominciata sabato sera e che andrà avanti fino a domenica 6 luglio, non tradisce le artese. Numerose le bancarelle che costellano la passeggiata Buschè, dai prodotti tipici e complementi d'arredo, dai dolci ai fumetti, dai gioielli alle motociclette e dalle grigliate di carne, passando per la cura del corpo. Tutto con l'apprezzato sotofono musicale predisposto da DJ Robertino.